Un cordiale saluto dalla redazione di Flores Multimedia, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove fino alle 18 resterà chiuto il tratto tra il bivio con la variante di Valico e Aglio in direzione Roma per lavori, chiuso anche lo svincolo di Rioveggio in direzione Roma, lo svincolo consigliato in direzione sud e quello di Badia, rallentamenti per lavori tra Firenze Scandicci e Firenze Impruneta in direzione Roma. Sulla statale Trebbi-Stiverina, tratto e svincolo chiusi per lavori tra Val Savignone e Pieve Santo Stefano Nord, per questi lavori attivo uno scambio di carreggiata tra Canili e Pieve Santo Stefano Nord in direzione Viterbo-Terni. Sulla statale 1 Aurelia, scambio di carreggiata per lavori tra Fonte Blanda e Montiano in direzione Grosseto. Muoversi in Toscana Info, in servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!